Buongiorno a tutti, siamo qui a presentare in questa conferenza stampa oggi le attività del gruppo scuola, dell'education. Education si intendono tutte le cose che facciamo e che abbracciano l'intero percorso formativo, dalle elementari pensate, fino all'università, fino addirittura ai dottorati di ricerca. Noi abbiamo bisogno di competenza e quindi riteniamo davvero che portare sempre più in alto il grado di competenza dei nostri giovani collaboratori possa aiutarci a innovare e quindi a competere in un mercato globale che è sempre più difficile. Abbiamo anche visto con dati sperimentali alla mano, cioè con veri dati concreti, che chi studia, chi si laurea, trova lavoro presto, non risente dei dati della disoccupazione giovanile, pensate che il 90% dei laureati trovano lavoro in 4 mesi e in 3 anni sono occupati e per noi comunque rappresenta un vero punto di forza. Qui sono circondato dai miei collaboratori principali, Nicola Corsano che è responsabile e coordinatore di tutte le attività che facciamo con l'università e Anna Viel che è la corrispettiva per tutte le attività che facciamo con la scuola. Pensate che abbiamo oltre 30 progetti, incontriamo ogni anno 5200 studenti e 380 imprenditori sono sempre coinvolti. Io darei la parola a loro perché vi raccontino il loro progetto più bello che seguono. Per l'università possiamo parlare di uno dei 30 progetti appunto, mi imprendo, mi imprendo perché è un progetto di un incubatore imprenditoriale, è nato qui a Padova e dopo 5 anni è diventato addirittura un progetto adottato da Confindustria Nazionale. Quindi abbiamo la possibilità di ogni imprenditore presentare agli studenti universitari una loro idea, un'idea nel cassetto che non è stata portata avanti perché non ci sono competenze e capacità all'interno della propria azienda. Gli studenti che ritengono utile questo progetto e avere le competenze ideali si propongono all'imprenditore che farà una selezione e un team di lavoro porterà avanti appunto questi progetti. Una valenza importantissima, i dati oggettivi li abbiamo anche, recentemente un'impresa che ha proposto un'idea qui a Padova a Mi Imprendo ha avuto un finanziamento di 700 mila euro, quindi abbiamo anche i dati oggettivi. Per quanto riguarda la scuola noi affianchiamo i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e anche i loro docenti. In particolare ad esempio incontriamo più di 1500 studenti con il progetto prove tecniche in cui andiamo in classe e raccontiamo il mondo dell'impresa, il modo giusto dando loro dei consigli per avvicinarsi al mondo del lavoro, scrivere un curriculum e poi andare ad affrontare il primo colloquio di lavoro.